Andiamo con gli interventi, invito a parlare la dottoressa Daniela Noni, Presidente del Consiglio. Allora intanto grazie all'associazione Unica 2.0 per avermi invitato a questo congresso, anche l'anno scorso ho avuto piacere di partecipare e ritengo che come rappresentante di un'istituzione sia un dovere quella di essere presente in questi momenti e confrontarsi e anche mettersi in discussione ascoltando quello che proviene appunto da voi, dai giovani, perché a volte le idee che un rappresentante di un'istituzione può avere possono non corrispondere a quello che invece sono le vere esigenze, invece se anche comporta fatica perché mette continuamente in discussione è doveroso però che ci sia un confronto continuo e costante proprio per cercare di migliorare il proprio lavoro. Io non voglio fare questioni partitiche, voi lo sapete sono emanazione diretta del Presidente della Regione perché la mia nomina da lì proviene, però ritengo anche che sia doveroso per chiunque rappresenta un'istituzione nel momento in cui ha un incarico spogliarsi di quelle che sono le visioni partitiche ideologiche che deve comunque mantenere per carità al di fuori di quegli ambienti ed essere rappresentante di tutti nello stesso modo. Quindi non esiste che uno sia di sinistra o di destra decida di ricevere soltanto le persone del proprio partito o faccia delle azioni o mette in campo dei servizi che riguardano soltanto una parte della popolazione perché nel momento in cui appunto si diventa rappresentante di un'istituzione lo si è per tutta la popolazione quindi è giusto dialogare e approvare tutte quelle idee che provengono da qualunque parte l'importante è che siano delle idee buone e che possano avere una ricaduta su tutte. Credo fortemente nel bene comune e nel rispetto della gestione di denaro pubblico che è denaro di tutti noi cittadini messo in campo grazie al pagamento delle tasse e quindi anche lì massima trasparenza. È vero che questa non sempre è la consuetudine però dovrebbe essere presa proprio come buona pratica di gestione di un'istituzione pubblica. Ringrazio anche il sindaco che ha ricordato il grosso lavoro che è stato fatto per portare avanti un progetto il progetto del campus universitario e colgo qui anche l'occasione per darvi le ultime informazioni perché spesso leggo soprattutto su Facebook informazioni contrastanti il campus non si fa più, non ci saranno più questi posti letto quindi questa occasione è buona per chiarire una volta per tutte che a seguito della delibera regionale del luglio del 2012 che ha sbloccato la situazione perché noi essendo un ente strumentale della regione dobbiamo attendere delle direttive abbiamo messo veramente tutte le forze in campo Ersu, Comune, Regioni ci siamo messi intorno a un tavolo per non perdere dei finanziamenti pubblici che si trascinavano da diversi anni è un progetto che era fermo da 12 anni quindi in quattro mesi veramente non dico che abbiamo fatto miracoli perché siamo persone terrene e ho massimo rispetto per i miracoli veri però veramente come ha detto il sindaco ci siamo messi pancia a terra per riuscire a ottenere il risultato e entro dicembre chiudere questa faccenda con la pubblicazione del bando siamo nella fase di aggiudicazione provvisoria ovviamente ci sono degli iter burocratici che purtroppo sono piuttosto lunghi perché prevedono dei tempi di verifica delle carte delle società che hanno partecipato al bando però entro marzo ci sarà questa assegnazione dopodiché l'iter procederà abbiamo avuto anche il controllo del ministero che è andato molto bene ovviamente siamo sotto monitoraggio perché essendo stato un progetto fermo per così tanti anni vogliono capire quali sono state le criticità ma il perere è stato più che positivo su quello che hanno visto fare veramente in questi due anni e di questo non posso che ringraziare anche il consiglio di amministrazione di cui è qui presente la consigliera Marras che è espressione fra l'altro della vostra associazione all'interno del consiglio dell'ERSU perché veramente abbiamo lavorato tantissimo per conseguire questo obiettivo e restando all'interno dell'argomento dei consigli di amministrazione colgo l'occasione anche per fare un piccolo inciso in momenti di crisi si fanno dei grandi proclami eliminiamo tutti i consigli di amministrazione facciamo un risparmio e qui in mezzo ci passano anche però poi enti come quello del diritto allo studio che invece sono fondamentali perché è l'unico ente di riferimento per i giovani non solo ma a livello nazionale i consigli di amministrazione e degli enti per il diritto allo studio esistono perché c'è una rappresentanza che è mista due rappresentanti di parti politiche differenti che garantiscono quindi un'equità, un equilibrio ma anche e soprattutto un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei docenti quindi io invito a fare delle distinzioni quando ci sono queste sparate poi ripeto di riduciare i costi sì è vero non sperparare i denari dei cittadini ma anche fare una differenza tra quei consigli di amministrazione che veramente lavorano e altri che invece funzionano soltanto per mettere persone dei vari partiti quindi su questo vi invito visto che siete giovani e che voi avete il potere in mano per stabilire le cose di fare delle serie riflessioni quando si tenta di resettare tutto e in quel tutto magari passa anche qualche cosa che invece è veramente importante e veramente buono perché io sono pronta e il consiglio di amministrazione con me in qualunque momento a dimostrare il lavoro che dal 2010 ad oggi è stato fatto all'interno dell'ERSU perché abbiamo veramente ribaltato la situazione non lo dico perché voglia chissà quale merito però sicuramente è cambiata la tendenza molti di voi lo sanno siamo tutti disponibili nel momento in cui ci sono dei problemi che vanno risolti ci siamo dati da fare soprattutto per aprire la generalità degli studenti perché l'ente regionale per il diritto allo studio è vero che deve avere come priorità quella fascia di studenti che non hanno i soldi per poter accedere al diritto allo studio ma anche è vero che ci sono ben 28.000 studenti quest'anno prima erano molti di più che devono poter beneficiare dei servizi dell'ente e quindi su questo abbiamo veramente apportato una grossa innovazione perché tutte le azioni che abbiamo messo in campo abbiamo sempre cercato di tenere conto appunto di tutti gli altri studenti non ultimo il progetto Student Jobs che ha fatto 9 milioni di visualizzazioni voi direte sì è una cosa virtuale no è una cosa molto concreta perché ha posto veramente la Sardegna al centro del mondo perché queste visualizzazioni sulla pagina Facebook che questo progetto quotidianamente elabora e mette informazioni appunto per voi su tutto ciò che succede sul territorio a livello regionale, nazionale ed europeo ha avuto visibilità in paesi di tutto il mondo e quindi vuol dire che tutto sommato quando ci mettiamo a fare le cose anche in Sardegna non siamo poi così tanto da buttare via anzi direi che stiamo ottenendo ottimi risultati e questo grazie a voi perché lo sportello viene gestito peer to peer quindi da studenti che sono stati selezionati grazie al merito quindi anche questa è stata una rivoluzione non andare più sul reddito e merito ma anche in qualche modo premiare il merito degli studenti un altro aspetto sicuramente è quello del sottofinanziamento qui è una nota dolente io sono anche vicepresidente nazionale degli enti per il diritto allo studio quindi è un trend nazionale che poi ha cascata una ricaduta sulle regioni poi ci sono regioni molto più ricche della nostra che riescono in qualche modo anche attraverso le fondazioni bancarie a rimpinguare quelle somme che vengono tagliate dal ministero e altre regioni come la nostra che invece hanno grosse difficoltà io devo dire una cosa per quanto riguarda le borse di studio in Sardegna non entro nel merito degli importi perché c'è un ricorso al TAR quindi su questo non mi esprimo faccio una considerazione più di carattere generale nel momento in cui le somme si sa che sono poche a un certo punto diventa una scelta sulla quale forse una riflessione maggiore l'avrei fatta è più giusto ripartirla il più possibile tra tanti e cioè non escludere quei 700 che poi rischiano di rimanere al di fuori della borsa di studio e anzi dover restituire anche le somme oppure dare soltanto le somme a quelli che in base ai parametri ministeriali consentono di avere un importo maggiore però è ovvio che la coperta si restringe quindi il numero di beneficiari è inferiore allo stato attuale ricordo che per poter rispondere a tutte le richieste degli idoni e eliminare quella antipaticissima categoria di idoni non beneficiari ci sarebbero voluti ben 6 milioni in più è anche vero che allo stato attuale voi sapete l'importo della borsa viene formato da tre enti quindi dal ministero dalla regione che deve garantire almeno il 40% in questo momento la regione sta garantendo più del 40% è una parte della tassa regionale e anche qui sulla tassa regionale una riflessione seria va fatta perché voi sapete che col decreto 68 che è passato l'anno scorso sulla quale veramente scusate se ve lo dico ma sarei scesa in piazza e io l'ho denunciato in più occasioni però è un po' passata sotto il naso quel decreto 68 è molto restrittivo proprio sul campo del diritto allo studio e il decreto attuativo che ha rischiato di passare proprio prima delle elezioni politiche è stato veramente quasi una vergogna perché insomma te ne stai andando e cerchi in tutti i modi di approvare con un governo tecnico una proposta che era oscena inizialmente noi abbiamo avuto modo di vederla nella prima stesura all'andisulente nazionale per il diritto allo studio e veramente insomma c'erano delle cose che insomma se uno a un certo punto avesse fatto direttamente la lista dei ricchi che possono accedere all'università avrebbe fatto probabilmente più in fretta e avremmo risolto il problema dell'università perché l'eguaglianza sociale è un concetto che sfugge a molti attrotti che maggiore risorse al diritto allo studio consentono uguaglianza sociale consentono crescita sociale e economica per il territorio piuttosto che evasione dei nostri cervelli che all'estero riscuotono grossissimi successi perché veramente diventano delle eccellenze proprio per tutte le difficoltà in cui vengono dressati da qui a quando partono per l'università qui sul territorio sardo auguri di buon lavoro